A me quello che interessa è che Draghi faccia Draghi. Se Draghi fa Draghi senza stare a ascoltare nessuno, allora il Paese è più forte. Se ci mettiamo a inseguire un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, è l'ultima dichiarazione di Salvini, è quello che dice Di Maio, è quello che replica Conte, allora il Paese rischia veramente di andare alla debacle. Quindi la mia proposta è un appello alla responsabilità del Presidente del Consiglio. Sono convinto che se ci sarà questo appello ci saranno ulteriori pezzi del Movimento 5 Stelle che seguiranno Draghi e abbandoneranno Conte, anche perché Draghi è una persona seria, uno statista. Conte è una persona rosa dall'invidia, uno statista.